Credo che questo sia veramente un punto molto dolente perché alcune volte i processi potrebbero essersi risolti in un nulla di fatto, come lei giustamente dice, per una carenza strutturale delle possibilità operative del giudice, per una serie di depistaggi continuativi a catena che vengono messi in atto proprio al fine di allontanare il più possibile la verità. Ma in altri casi questa verità e questo esito dei procedimenti può essere stato determinato da impostazioni a prioristiche di tipo politico per cui nel processo poi vi è stato un risentimento notevole.